La memoria Ci sono cose da fare ogni giorno Lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno Ci sono cose da fare di notte Chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per non sentire Ci sono cose da non fare mai Né di giorno né di notte Né per mare né per terra Per esempio la guerra